Buongiorno a tutti, per mio diletto, per i miei approfondimenti personali sto leggendo la lunga biografia mastodontica di Renzo De Felice di Mussolini e leggendo Mussolini, l'organizzazione dello Stato fascista nel 1925 e nel 1929 sono arrivato al punto delle leggi fascistissime del novembre del 1926 inserite all'interno di un lungo percorso della costruzione dello Stato fascista a seguito anche di una serie di attentati alla persona di Mussolini con anche un certo dibattito interno in sede di governo e in sede di partito, come in quei mesi vi è stato il travasso dalla gestione Farinacci a quella di Augusto Durati con tutta una serie di avvicendamenti nei ruoli chiave dello Stato ed è interessante come De Felice ponga l'accento all'interno di un discorso molto più generale sulla figura del re e nello specifico porta a testimonianza una notazione, una riflessione del maresciallo Enrico Caviglia e qui appunto pone l'accento De Felice, questo parla De Felice nei giorni cruciali della crisi del novembre del 1926 in cui appunto vengono varate una serie di norme molto restrittive che in qualche modo vanno a rafforzare quell'aspetto a tendenza totalitaria dello stesso regime fascista il maresciallo Caviglia, un uomo dunque non sospettabile di preconcetti antimonarchici così annotava nel suo diario ed ecco cosa scrive Enrico Caviglia nel suo diario la dinastia di Savoia con Vittorio Emanuele III è scesa dal suo altare essa ha permesso la violazione della Costituzione ha lasciato manomettere la libertà accordata ai cittadini dallo Statuto ha proscritto molti cittadini per ragioni extra-statutarie che hanno carattere di persecuzione nel dopoguerra il re si è comportato come un burocrate e in alcuni momenti decisivi non ha saputo guidare il timone della barca dello Stato con mano sicura troppo costituzionale quando i tempi chiedevano mezzi eccezionali tradì la Costituzione quando essa poteva e doveva funzionare integralmente vi rileggo questa frase che secondo me è veramente di un tagliente allucinante e scritta da un personaggio come il maresciallo Enrico Caviglia è ancora più sintomatica di un giudizio di grande peso e di assoluta impossibilità preconcettuale quindi si riferisce a Vittorio Emanuele III troppo costituzionale quando i tempi chiedevano mezzi eccezionali tradì la Costituzione quando essa poteva e doveva funzionare integralmente e siamo ancora solo al novembre del 1926 ancora sarebbero dovute passare altri 18 anni 17 anni fino ad arrivare al 43, al 44 tutto ciò che sappiamo della successiva storia costituzionale storia politica della monarchia italiana e di tutto ciò che comporta appunto poi i grandi drammi sociali, politici, economici, militari del nostro paese ma mi interessava, avendo letto questo brano mi interessava condividerlo con voi per la grandissima peculiarità, per il grandissimo acume che un personaggio come il marescello Caviglia possa aver espresso in quei giorni particolarmente drammatici anche per un uomo di una caratura non progressista potremmo dire come Enrico Caviglia detto questo com'è il sovrimito a mettere mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao